Todaro di testa Razak verso Onuoha che guarda, viene in fondo il pallone, è buono, la scivolata di Omooha. Genna scambia con Onuoha, il pallone troppo forte, Genna, il vicolo mantiene in campo, è comunque lontano per Razak. Razak si gira bene. Ripartire il fulgatore, Todaro lungo la fascia da Razak, contro Reghini, Razak, sterza, si ferma un po', deve girare, effettua in difesa Lopizzo, Ocbonda. Del Monego di testa Razak, Lopizzo giù, gira Razak ancora a Vessio Genna, a guardare in aria. Razak, Nadella, rilancia, riesce a trovare Razak, D'Aguano su Scalisi, che va di testa, D'Aguano salta più in alto di tutti. Razak si mette davanti a Reghini, prende il pallone, sono imprecisi però i passaggi, adesso Nadella verso D'Aguano. C'è spazio, Razak allarga, un po' in ritardo.